bene allora buon pomeriggio a a tutti e un grande piacere accogliere anche se solo virtualmente il professore carlo galli carlo galli e professori di storia delle dottrine politiche all'università di bologna ma cosa abbastanza rara per uno studioso della politica ha avuto anche un importante carriera parlamentare perché ho scopato il seggio 43 di palazzo madama dal 2015 al 2018 devo dire che mi trovo un pochino in difficoltà a dover presentare il professor galli perché l'autore di un'opera importantissima sia in termini di sostanza sia con della mia difficoltà in termini di volume spero che mi perdonerà quindi se mi permetto solo qualche osservazione abbastanza personale invece di essere esaustivo il che ci inciterebbe qui fino a fino a domani mattina probabilmente e ho scoperto il lavoro di carlo galli tempo fa con dello studente cui l'istituto leggendo spazi politici che è stato pubblicato dal mulino nel 2001 e ricordo di essere stato affascinato da una lettura che proponeva una vasta prospettiva storica e filosofica sul rapporto tra politica e spazio momento in cui era prima del del 11 settembre era ancora una questione molto aperta nel momento cosiddetto unipolare e lo stesso anno credo e il piacere di ascoltare il professor galli quando venne all'istituto nel quadro di un seminario organizzato con peter wagner toni negri michael hart sull'europa di cui come me lo ricordava lei prima gli atti sono stati nel frattempo ovviamente pubblicati e ho proseguito poi le mie letture con lo sguardo di gianno che credo tuttora rimane uno dei migliori libri scritti su carl schmidt e più recentemente o più recentemente ho letto il suo lavoro diciamo più direttamente politico prima sinistra pubblicato da mondadori 2013 e più recentemente democrazia senza popolo pubblicato pubblicato da felcrinelli nel 2017 che torna che una testimonianza molto interessante molto bella e molto onesta sulla tensione tra il lavoro teorico e la pratica politica e mi sono fermato lì e devo dire che semplicemente perché le mie capacità di letture non sono non sono meno veloci della capacità di scrittura del professor galli quindi sono indietro di qualche libro ma spero di 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 aggiornarmi nei settimane mesi che vengono intanto è un grande piacere averlo spero che avremo il piacere di averlo di accoglierlo di persona all'istituto di nuovo e il titolo del suo intervento stasera è pensiero critico e democrazia prima di lasciargli a parola voglio solo specificare che parlerà 45 minuti un'ora e dopodiché avremo 30 minuti di domande di dibattito e che se volete fare domande in inglese è possibile ma il resto della della presentazione sarà in italiano quindi senza più aspettare le do la parola professor galli e grazie ancora di aver accettato il nostro invito bene grazie grazie a voi e di avermi invitato io sono lieto e onorato di parlare in un contesto così prestigioso come questo di fiesole e la ringrazio anche dottoressa rosenboim che è stata la mediatrice di questo invito io per parlare di pensiero critico e democrazia devo in pratica fare una sorta di riassunto di quelle che sono le le mie principali linee di ricerca almeno ultimamente perché prima dopo dopo il mio interesse schmittiano che in realtà aveva una suo punto fondamentale nel libro del 96 che si intitola generologia della politica ma insomma dopo quella stagione ho messo al centro della mia ricerca tanto la nozione di pensiero critico a cui ho sostanzialmente dedicato il libro che si intitola forme della critica che è stato pubblicato nel 2020 dal mulino quanto una serie di altre opere la prima delle quali è il disagio della democrazia nel 2011 di einaudi e poi quelle che venivano ricordate poc'anzi cioè quella di feltrinelli nel 17 ma anche ma anche la nozione di sovranità a cui ho dedicato un libro nel 19 in realtà a che fare con la democrazia perché è così importante la democrazia non solo per me va date nel in quello che alessandro manzoni chiamava il palchetto degli statisti della biblioteca di don ferrante e io ho qualche metro di libri sulla democrazia che vuol dire che è un tema che sta sta molto a cuore a molti studiosi perché è molto molto importante molto minacciata molto importante molto minacciata dopo vediamo perché ma insomma immagino che ce la possiamo anche risparmiare in dettaglio ma insomma è molto importante perché in realtà democrazia non è per noi come per un pensatore greco una delle forme di governo ma è certo che è una delle forme di governo ma è quella nella quale si condensano le aspirazioni dell'intera modernità e quando noi pensiamo a democrazia pensiamo a alla politica che diventa ciò che noi vorremmo fosse la politica non è un'opzione fra le altre e ciò per cui crediamo di avere segnato la nostra il nostro posto della storia noi occidentale è il nostro specchio è lo specchio in cui vorremmo rifletterci vorremmo rifletterci e ritrovarci ecco dico appunto la democrazia dei moderni la nostra che quella degli antichi era una una forma di governo fra le altre ed era facilissima da da interpretare era il governo dei poveri contro i ricchi cioè era una forma di governo di di parte ecco mentre invece noi abbiamo la pretesa che la democrazia sia il modo migliore per organizzare una coesistenza di tutti e quindi e quindi e quindi dobbiamo dobbiamo risalire per parlare di democrazia come democrazia dei moderni che è lo specchio di ciò che noi vogliamo sia la politica come organizzazione della coesistenza di tutti dobbiamo fare un attimo mente locale sopra che cosa è questa modernità la quale io dedicai il mio primo libro un paio di ere glaciali fa e l'idea di fondo della modernità occidentale è appunto la critica la critica dell'autorità cioè il fatto che la la politica la scienza l'esistenza individuale e collettiva si autogiustificano e non si giustificano fondandosi su principi dati appunto l'autorità è un principio dato che non sopporta di essere criticato la modernità al contrario è l'esercizio della critica le ragioni storiche per cui l'occidente entra in questa logica di fondo e sono le guerre civili della regione cioè il venir meno di un fondamento condiviso fra gli esseri umani in generale e dentro le le forme politiche in particolare il fondamento unitario non c'è più dio è il nome della guerra non il nome della pace e quindi bisogna inventarsi un altro modo di stare insieme partendo dal presupposto che non esiste un ordine dato che l'ordine è da costruire da inventare attraverso la ragione questa è l'idea a differenza del pensiero scientifico che è chiaramente anti autoritario ma che pretende di trovare un ordine razionale nella natura un ordine che fino a quel momento non veniva riconosciuto nell'ambito politico invece l'idea è l'ordine proprio non esiste non è attingibile come esperienza naturale cioè praticamente vuol dire che l'antichissima tradizione aristotelica dell'uomo animale sociale non vale più quello che noi vediamo come animali cioè in natura è il disordine il conflitto talmente radicato e talmente terribile che come diceva hegel l'imperativo moderno è exeundum estatu nature bisogna uscire dallo stato di natura ecco però ci si riesce attraverso opportune vie che sono essenzialmente di contratto ci si riesce a uscire dallo stato di natura e è possibile pensare all'organizzazione di un ordine politico artificiale razionale che coinvolge che è tanto più razionale quanto più è inclusivo cioè quanto più coinvolge tutti pensate che in il contratto per hobs è la figura del contratto coinvolge anche le donne che nel 1650 voleva dire che le donne erano erano soggetti politici come gli uomini e questo non per una speciale bontà di hobs il suo femminismo che non c'era ma per puri motivi logici cioè perché la legge fatta dal sovrano sia accettata da tutti bisogna che il sovrano rappresenti tutti non solo una parte che chi non è rappresentato non è tenuto all'obbedienza per cui dunque abbiamo una prima fase che di alto profilo teorico altissimo profilo teorico da hobs a loc a russo a kant cioè il razionalismo politico moderno che ci dice è possibile la politica è possibile la politica artificiale che abbia come fondamento ciò che ormai ci è restato cioè il soggetto e i suoi diritti cioè la sua esistenza diciamo così la sua esistenza non minacciata ecco questo è l'obiettivo della politica moderna salvaguardare un'esistenza non minacciata di un soggetto che si possa dentro l'ordine politico espandere possa come si dice fiorire il soggetto fiorisce dentro un ordine politico artificiale che ha contribuito a costruire questo fiorire implica il godimento di diritti naturali che sono e questo è il punto molto importante sono contraddittori fra di loro perché nella nella formulazione obessiana il diritto naturale è solo il diritto alla vita e quindi il nome della ver salva la vita si deve obbedire a un sovrano che è rappresentativo ma è dotato di una quantità immane di potere diritti naturali in loc sono vita libertà proprietà allora vita e libertà non sono in contraddizione fra di loro la proprietà entra in contraddizione con qualche cosa che come vedete non è nominato come diritto ma è prefigurato come ovvio cioè l'uguaglianza tutto questo discorso ha senso perché c'è l'uguaglianza fra uomini l'uguaglianza non è un diritto è un fatto se non ci fosse uguaglianza se ci fosse differenza ci sarebbe in un qualche modo gerarchia cioè ci sarebbe in qualche modo un ordine naturale invece la la l'esperienza moderna è che non c'è ordine naturale non c'è un fondamento trascendente o naturale dell'ordine quando c'è questo fondamento ci possono essere anche differenze gerarchiche e il mondo è ben ordinato ben organizzato perché è differenziato tutto ciò nell'età moderna non c'è c'è mancanza di fondamento e uguaglianza come come dato di fatto l'unico dato di fatto che da cui si comincia è gli uomini sono uguali ma questo non è ordine come in un mucchio di sabbia che i granelli siano uguali fra di loro non dà a quel mucchio di sabbia un ordine e infatti l'uguaglianza non è citata fra i diritti naturali del pensiero classico è semplicemente dell'azionalismo classico è precisamente un fatto ovvio gli uomini sono uguali che vuol dire sono tutti in disordine la questione politica moderna è come si costruisce un ordine che partendo da questo dato di fatto mancanza di ordine uguaglianza fra gli uomini produca una situazione nella quale i diritti sono salvaguardati allora come vi dicevo libertà e vita funzionano insieme la proprietà è invece in contraddizione col dato dell'uguaglianza cioè attraverso la proprietà si producono importanti disuguaglianze se ne sono accorti tutti subito cioè pensate a Rousseau il primo che recintò un terreno e disse è mio e trovò qualcuno che gli credette è stato colui che ha dato origine a tutti i problemi della civiltà allora ecco il problema della democrazia democrazia è realizzare il sogno moderno di avere un ordine politico artificiale razionale in cui gli individui uguali trovino il modo di esprimere al massimo le loro doti naturali che vengono chiamati diritti incomprimibili è che tra questi diritti incomprimibili c'è il diritto alla proprietà che produce problemi questo sotto il profilo puramente teorico sotto il profilo storico la democrazia è strettissimamente perché il mondo è contraddittorio questa differenza non è ostativa in sé rispetto alla democrazia anzi la democrazia ne è prodotta mi spiego che cos'è questa differenza nella storia concretamente è l'economia nella sua forma moderna cioè capitalistica non che prima del capitalismo non ci fossero differenze economiche ce n'erano di enormi e mostruose ma erano bloccate mentre invece il capitalismo introduce un elemento di dinamismo fortissimo nelle nostre società un dinamismo che non ha per nulla l'intenzione e l'obiettivo di rendere gli uomini uguali economicamente ma neanche per sogno però ha come diciamo così effetto collaterale quello di creare un problema la democrazia è prima di tutto sotto il profilo storico un problema cioè è il fatto che la forma capitalistica dell'economia in una forma sempre più autocatalitica cioè capace di fondare se stessa e di riprodurre se stessa questa forma economica è prima di tutto un'estraneazione dell'uomo rispetto alla terra ma attenzione sto parlando in senso materiale cioè strappa i contadini dalle campagne abbiamo la democrazia come problema cioè la politica non più soltanto a livello teorico ma a livello pratico deve includere tutti questo non vuol dire che il processo sia stato un processo lineare e che coloro che detenevano il potere fossero tanto illuminati da accettare ciò ovviamente non è andata così però è andata così lo stesso cioè a un certo punto è stato indispensabile che i ceti dirigenti che erano ceti dirigenti borghesi oltretutto molto spesso in alleanza con ceti dirigenti pre-borghesi immobiliari a un certo punto hanno dovuto capire che il mondo moderno a puri scopi di conservazione a puri scopi di conservazione era obbligato a trovare un posto per le masse a trovare un posto non il posto che le masse chiedevano ma un posto e questo è la democrazia sotto il profilo pratico cioè è il fatto che le forme politiche occidentali non potevano estraniarsi rispetto al capitalismo perché tra l'altro nell'economia capitalistica trovavano una fonte di potenza economica fenomenale ma il capitalismo si porta dietro la democrazia come problema non come soluzione poi la soluzione è stata pensata in modi diversi da ceti politici diversi con finalità diverse però se non c'era il capitalismo sicuramente non c'era la democrazia perché non c'era l'esigenza c'era l'esigenza è tutto teorica che la politica sia la casa di vetro perfettamente trasparente e razionale un ordine inventato dall'uomo l'idea che l'uomo è il signore della storia tutto quello che volete però tutto ciò è nelle mani di elite borghesi non è nella storia ecco, questi elite borghesi si smuovono detto in un altro modo da liberali sono costretti a diventare liberal-democratiche o social-democratiche perché hanno davanti a sé masse che entrano nel sistema produttivo che devono essere messe in un qualche modo dentro il sistema politico oltretutto questo avviene in modo ipertraumatico di fatto almeno negli stati continentali ma anche nel mondo anglofono avviene con la prima guerra mondiale è lì che c'è l'esplosione della democrazia per un motivo banalissimo che le masse sono mandate tutte a far la guerra e allora non si possono mandare milioni di persone a far la guerra e poi quando tornano a casa, quelli che non muoiono dirgli, bene, adesso tornate nel sistema arcaico, liberale, conservatore dal quale ci siamo mossi non si può, semplicemente per cui chi ci prova viene travolto chi ci prova viene travolto dalla prima guerra mondiale escono regimi democratici o regimi totalitari come è noto ma anche un regime totalitario è democratico da questo punto di vista cioè ha come obiettivo la inclusione delle masse poi le include in un modo che noi definiamo non democratico sotto il profilo valoriale ma è certamente un regime che ha a che fare con le masse anzi nasce da esse e si giustifica attraverso di esse è un incidente di percorso il totalitarismo? sì due guerre mondiali la prima li ha generati la seconda li ha dimezzati la terza, cioè la guerra fredda ha finito il lavoro diciamo così tuttavia tuttavia qui abbiamo un problema cioè abbiamo il fatto che tutti diamo per scontato che la politica non può essere autoritaria cioè detto in un altro modo che la politica non ha non è naturale cioè non ci sono fondamenti cogenti dell'ordine politico se ci fossero dovremmo obbedire ad essi se un fondamento è davvero cogente dovremmo adeguarci ecco la nostra idea di democrazia è che la democrazia è la forma politica della libertà cioè è la forma politica che non che non dà per scontato che ci siano fondamenti a cui adeguarci bene al tempo stesso la democrazia è abitata da una forma economica da un paradigma economico il capitalismo che tra l'altro ha varie forme a sua volta che è estremamente vitale e estremamente dinamico ma produce disuguaglianza questo è la migliore delle ipotesi nella peggiore delle ipotesi la forma politica che ingloba le masse è abitata da un sistema economico di fatto capitalistico ma che può essere chiamato anche comunismo cioè un'economia di comando che però vuole fare le stesse cose dell'economia di mercato con risultati oltretutto inefficienti noi abbiamo in questo modo una situazione in cui stiamo dicendo vogliamo vogliamo vivere insieme politicamente nel modo più razionale e trasparente senza dare nulla per spontaneo cioè vogliamo essere noi cittadini i signori della politica detto in un altro modo nulla si può presentare come necessario necessario in senso forte cioè ciò che non può non essere da una parte dall'altra si impone si è imposto il capitalismo come forma economica necessaria cioè che non ha alternativa e il capitalismo è assai complicato da far coesistere con la democrazia ha coesistito in quelli che vengono chiamati i 30 gloriosi bene o male gli anni che vanno dal 45 al 75 bene o male che cosa è successo è successo che si è visto che cosa è necessario perché ci sia democrazia è necessario sono necessarie due cose che essa sia voluta da tutti cioè che tutta la società sia politicizzata e che la politica deve avere pari peso rispetto all'economia pari potere pari potenza che cosa vuol dire che deve essere voluta da tutti che la società deve essere politicizzata vuol dire che ci devono essere i partiti che la società deve sapere di essere al tempo stesso unita e divisa in interessi anche contrapposti ed esprimere attivamente questa sua essenza una e molteplice attraverso il pluralismo libero che cosa significa che la politica deve avere pari potenza rispetto all'economia significa il appunto quello che viene chiamato il compromesso social democratico cioè il fatto che c'è un'alleanza tra il capitale e il lavoro e questa alleanza è garantita dalla politica significa che il capitale trova utile avere un aspetto redistributivo e trova necessario che esista un potere politico non ostile al capitale ma non coincidente con questo questi sono i trent'anni tutto ciò è successo poi perché le nazioni gli stati europei sono stati costretti a smettere di farsi la guerra gli uni con gli altri dal fatto che avevano fatto l'ultima guerra definitiva si credeva perdendola e dunque l'Europa era divisa in due e la parte occidentale di essa a tutto poteva pensare meno che impegnarsi nuove guerre e dunque poteva entrare in logiche di distribuzione benissimo ecco perché la globalizzazione è un problema perché la globalizzazione è un problema teorico perché ha fatto saltare questa questa necessità che la politica degli stati occidentali non prevedesse la guerra da una parte e dall'altra prevedesse una sorta di comando o comunque sia di governo di controllo della politica sull'economia quando è crollato il comunismo per inefficienza per corruzione per tutto quello che volete quando è crollato ha fatto saltare non solo il comunismo evidentemente ma anche lo stato sociale cioè la socialdemocrazia cioè l'idea che la politica possa governare l'economia anche indirettamente da cui il neoliberalismo cioè un cambio di paradigma un cambio di paradigma per cui viene prima l'economia per cui primo l'ordine non è trasparente e secondo l'ordine non è politico non è costruttivo questo è evidentemente Hayek l'ordine non è taxis ma è cosmos cioè non è imposizione razionale costruzione ma è il formarsi spontaneo di equilibri che sono composti di squilibri cioè di equilibri sempre in movimento sono equilibri non non statici mai fermi dove c'è sempre qualcuno che vince qualcuno che perde detto in un altro modo che vuol dire che l'obiettivo della modernità cioè di far sì che il soggetto fiorisca è da una parte affermato vigorosamente anzi tutta l'idea è l'economia non è altro che un sistema di interazioni fra singoli soggetti dall'altra si dice però che il soggetto non potrà mai contemplare un ordine dicendo questo lo fa tu perché il soggetto pensa solo a se stesso e l'ordine si fa da solo ed è un ordine mobile è un ordine dinamico la società è società al tempo stesso liquida e di rischio mentre invece la società socialdemocratica tra virgolette non era liquida perché era era mobile ma aveva dei principi di ordine in senso di interesse economico in se stessa ed erano i partiti e era una società che aveva una spina dorsale che non era economica erano le istituzioni democratiche bene questo cambio di paradigma dentro il quale abbiamo condotto le nostre esistenze fino a qualche anno fa che io amo definire la quarta rivoluzione del ventesimo secolo dopo quella bolshevica dopo quella fascista dopo quella socialdemocratica la rivoluzione neoliberista la rivoluzione del capitale questa rivoluzione ha portato ad evidenza ha prodotto una crisi della democrazia è nata come affermazione della democrazia contro il totalitarismo comunista contro l'autoritarismo il che è stato anche vero sia ben chiaro e tuttavia ha prodotto anche una crisi della democrazia perché la democrazia si fonda sopra la politica non sopra l'economia la democrazia è una risposta politica a un problema economico è una risposta politica liberale o social democratica a un problema generato dall'economia dal capitalismo cioè il fatto che tutti i cittadini sono coinvolti come mai è successo nella storia tutti sono sempre costantemente coinvolti dentro il meccanismo economico e dentro il meccanismo sociale e dentro il meccanismo politico ed è una risposta altamente sofisticata che si fonda sul presupposto potono dire che l'ordine democratico deve essere continuamente voluto in quanto ordine che non c'è e che deve essere continuamente costruito da tutti cioè è un ordine che non si raggiunge per inerzia ma si raggiunge per impegno politico e un presupposto che la politica è capace di attenzione ma non di pianificare l'economia è capace di evitare che l'economia entri in ogni atomo della società che invece è stata la nostra esperienza cioè forse chi è giovane non lo sa ma c'è stata un'epoca in cui non c'era la valutazione in cui cioè valutazione vuol dire dare un valore in cui la logica del valore della valorizzazione il punteggio non entrava dappertutto non eravamo non eravate perché io me la sono schirata di poco ma me la sono schirata un curriculum cioè non c'era la messa in vendita di ogni pezzo di società o di esperienza non si parlava di beni culturali non si parlava di capitale sociale non si parlava di valutazione in modo così parossistico come se ne parla oggi il lavoro era il paradigma economico in realtà che che si è espresso come neoliberismo è il paradigma del marginalismo ed è il paradigma pensato organizzato fino dalla fine dell'ottocento proprio contro il modello marxiano che era anche il modello dell'economia politica classica cioè del valore lavoro il valore ai beni e alle merci non è attribuito dal lavoro che vi è incorporato ma dalla richiesta che di quei beni e di quelle merci c'è da parte dei singoli questo è il marginalismo il consumatore marginale non si parlava di sovranità del consumatore e non si parlava dunque di marginalità del lavoro marginalizzazione del lavoro di precarizzazione del lavoro che sono tutte le esperienze e della scarsità del lavoro che poi è stata anche indotta dall'immane spinta verso l'automazione che è intrinseca al modello al paradigma neoliberista ora tutto ciò sotto il profilo storico sotto il profilo teorico abbiamo una lunga serie di riflessioni che adesso cominciamo a mettere in fila sopra il fatto che ecco non solo empiricamente nell'esperienza ma sotto il profilo appunto dei principi la democrazia attenzione non in senso generico ma intesa come la politica trasparente in cui il soggetto diventa padrone di se stesso e capace di comprendere l'esperienza dentro la quale è ecco la democrazia non è possibile perché non è possibile la perfetta trasparenza allora una idea di questo genere è già nel neoliberismo non è possibile la perfetta trasparenza l'ordine è sempre pieno di disordine l'ordine è sempre pieno di conflitti e questo e questi conflitti rendono ripeto il soggetto da una parte protagonista ma dall'altra incapace di riconoscersi nel risultato del proprio protagonismo perché quel risultato è continuamente messo in discussione vi sono però altre vie rispetto alle quali la democrazia è stata criticata il pensiero critico rispetto alla democrazia non nasce dal razionalismo ovviamente il razionalismo l'ha inventato la democrazia voi non potete dire che John Rawls è critico della democrazia John Rawls è critico delle democrazie esistenti rispetto alle quali disegna un orizzonte normativo a cui si devono adeguare Ferraioli non è critico della democrazia è critico delle democrazie perché ha sposato integralmente con grandissimo rigore e coerenza ha sposato l'idea che nulla proprio lì è chiarissimo nulla preesiste tutto è prodotto della ragione per lui prodotto del diritto il popolo a cui la democrazia è intitolata di cui esprime il potere bene quel popolo non preesiste al diritto nasce solo quando c'è il diritto prima c'è soltanto una informe moltitudine dunque la critica di rango teorico dico di rango teorico perché sotto il profilo pratico praticamente tutte le democrazie esistenti nessuna delle democrazie esistenti soddisfa i requisiti previsti dal rigoroso razionalismo evidentemente ma sotto il profilo teorico quali sono le critiche che ci dicono che la democrazia contiene un nocciolo duro non sgretolabile non solubile dentro la ragione beh ne abbiamo già accennato dentro la tradizione del pensiero dialettico c'è meno in Egel in modo chiarissimo però in Marx l'idea che la politica non è la dimensione in cui la libertà si manifesta la politica è una dimensione di necessità che una necessità che consiste per Egel Egel lo dice così l'elemento dello Stato fa parte dello spirito oggettivo non dello spirito assoluto che vuol dire che lo Stato è spirito certamente cioè è opera umana perché se no non sarebbe un moderno ecco ma è un'opera umana che contiene una serie di contraddizioni da cui non si può liberare le può conoscere ma non si può liberare di essi e la contraddizione viene fatta emergere in varie circostanze il potere del principe la fioristica che chiude il sistema della rappresentanza politica ma la apre anche perché il principe alla fine decide da solo oppure la guerra la guerra che è qualche cosa che non è evitabile una certa guerra un'altra guerra sono empiricamente evitabili ma l'esporsi dello Stato alla guerra è inevitabile perché la guerra significa la contingenza gli Stati non stanno in un universo completamente trasparente stanno in un universo accidentato ciò che è necessario è la contingenza ciò da cui non si riesce a uscire è la contingenza l'imperativo moderno bisogna uscire dallo Stato di natura è un imperativo che può essere in qualche modo implementato ma non fino al punto di bruciare tutte le scorie naturali di cui è costellata l'esistenza per Marx la politica ha a che fare con la necessità nel senso che esprime in un modo che ai politici ai borghesi non è chiaro ma invece a lui Marx è chiaro esprime la necessità del dominio per tenere insieme una società che ha un elemento di non razionalità in sé potentissimo cioè un sistema economico fondato sulla appropriazione privata del plusvalore socialmente prodotto questa contraddizione esige per essere gestita il potere politico dello Stato che è una necessità data la forma economica che è in atto nell'Europa dell'Ottocento ma è una necessità che secondo Marx potrà essere eliminata anzi ha già in sé le condizioni della propria dignità ma pensiamo invece a una terza tradizione non quella del razionalismo non quella del pensiero dialettico alla tradizione del pensiero negativo e lì la democrazia sempre intesa come ideale della trasparenza della politica rispetto al soggetto la democrazia non c'è perché ma perché la forma politica contiene degli elementi di opacità assolutamente non controllabili della ragione un esempio Schmidt la politica contiene un punto un punto cieco quello che tutti hanno il rapporto amico-medico quello è è ineliminabile si può far finta che non ci sia prima o poi ti capita fra i piedi e quello ti fa esplodere le forme politiche cioè questi cristalli che si vogliono trasparenti hanno dentro di sé una frattura che li attraversa su questa frattura può agire soltanto il sovrano non il Parlamento o il Parlamento se si comporta come un sovrano naturalmente detto in un altro modo ancora la politica è tutta interna un sistema di coazioni non è vero che la politica è azione libera la politica è azione azione libera e razionale cioè un'azione tutta sotto il controllo del soggetto no la politica si colloca si situa dentro un'epoca l'epoca moderna nella quale epoca vigono coazioni alla produzione di unità coazioni metafisiche coazioni a pensare alla politica al tempo stesso come un disordine assoluto e una necessità di ridurre quel disordine a ordine unitario la democrazia è una delle forme attraverso le quali questa coazione epocale all'ordine si produce e poi che cos'è democrazia sempre per Schmitt c'è il potere del popolo e il potere del popolo è un potere immediato o un potere mediato dalla rappresentanza perché se è mediato dalla rappresentanza non è democrazia la rappresentanza è un principio aristocratico e se invece il potere immediato ma che cos'è l'unica forma di potere democratico immediato che Schmitt conosce giustamente è il potere costituente ovvero sia le rivoluzioni ecco se la democrazia è questa esplosione di energia allora bene questa è la democrazia però attenzione questa esplosione di energia sembra che sia di tutti coinvolga tutti ma non è vero ha sempre qualcuno contro cui le rivoluzioni e le rivoluzioni non ne si fanno tutti insieme appassionatamente le rivoluzioni le si fa in molti contro altri che spesso sono molti anche loro il potere costituente dice ma organizza lo stato dentro il quale vanno ad abitare tutti sì ma il potere costituente è contro qualcuno stiamo attenti perché questo questo non è non sono deliri se noi guardiamo la costituzione della repubblica italiana che è tutti dicono democratica e lo è beh però nasce dall'esercizio di un potere costituente che è sostanzialmente l'esito di una guerra civile e contiene in sé un principio di esclusione cioè sarà non applicato sarà obsoleto però c'è scritto che qui si può essere tutto quello che si vuole ma non si può essere fascista gli ordini non sono orientati sono orientati non sono neutri gli ordini hanno opacità non sono trasparenti e allora la democrazia eh sì è una democrazia militante se vogliamo e in ogni caso guardate questo è una critica del concetto di democrazia opposta a quella di Hayek anche quella di Hayek dice che c'è un'opacità nell'ordine ma l'opacità di cui parla Hayek è l'opacità dell'agire razionale interessato del singolo l'opacità di cui parla Schmitt è un'opacità diciamo ontologica strutturale ma pensiamo a Foucault sempre dentro al pensiero negativo la critica di Foucault per certi versi è ancora più radicale di quella di Schmitt nel fondo Schmitt crede al soggetto non crede al soggetto individuale borghese ma crede al soggetto popolo dotato di potere costituente Foucault il grande insegnamento di Foucault che poi deriva da Nietzsche è il soggetto non esiste non ha la caratteristica di consistenza identità razionalità strategica che ha nella filosofia razionalistica moderna nella teoria politica moderna caratteristiche peraltro che il soggetto proietta sullo Stato cioè Foucault è allo stesso titolo e giustamente critico tanto del soggetto cartesiano quanto dello Stato obessiano perché è critico perché dice non non ha funzionato così queste sono delle proiezioni la verità è che la la storia moderna è percorsa da flussi di potere che ogni tanto si increspano in forme ma che forme che non sono stabili il soggetto è certamente una increspatura dei flussi di potere che stanno dentro la modernità ma l'abbiamo visto in auge oggi l'abbiamo visto scomparire o sta per scomparire la famosa espressione del del soggetto come una figura disegnata sulla sabbia sulla sull'orlo del mare sul bordo del mare che prima o poi arriva un'onda e lo cancella no se ragioniamo così la democrazia al massimo al massimo è un valore cioè è un'aspirazione che però non ha un fondamento su cui basarsi non ha una giustificazione ci piace così per forza ci piace così ovviamente ma è un po' poco diciamo vuol dire che è molto soggetta alla contingenza e necessariamente soggetta alla contingenza e certamente le sue categorie fondamentali soggetto ordine uguaglianza diritti sono delle delle invenzioni allora l'economia politica dal punto di vista del pensiero dialettico è milita contro la cessione forte di democrazia la teologia politica schmittiana cioè l'idea che la modernità è un'epoca nella quale vivono coazioni all'ordine unitario milita contro la democrazia perché quelle coazioni avvengono in un universo in cui l'ordine si può costruire soltanto contro quel cioè vengono in un universo in un'epoca storica in cui c'è coazione e c'è il rapporto amico-nemico il pensiero di Foucault cioè il soggetto è una produzione dell'ordine non produce l'ordine il soggetto è una produzione del potere non è titolare del potere milita se vogliamo chiamarla biopolitica cioè la politica che costrui che lavora sulla vita non è la politica che è un contenitore dentro il quale viene calata la vita dell'individuo con l'obbligo per quel contenitore di salvaguardare la vita no è vero il contrario all'interno la biopolitica milita contro la democrazia aggiungiamone una che di solito non viene messa fra le forme di pensiero critico invece lo è la geopolitica la geopolitica non voleva per niente essere pensiero critico è un pensiero positivistico che crede ad aver trovato le leggi della politica non è vero niente però ha trovato qualche cosa che è abbastanza vero e non è per niente piacevole cioè le forme politiche si muovono hanno un dinamismo che è determinato anche dalla loro collocazione geografica e dalle caratteristiche geografiche del territorio su cui insisto per cui una cosa sono i paesi di earthland cioè continentali una cosa sono i paesi invece che danno sul mare cioè che si che producono logiche universalistiche chi esercita il potere sul mare è necessariamente universalistico che vuole poter andare dappertutto chi esercita il potere per terra invece crede nel confine e magari lo vuole spostare e comunque ha delle coazioni determinate dalla geografia per cui che so io una per esercitare il potere in Europa si deve controllare l'istimo ponto baltico che va da Kaliningrad a Odesso chi controlla quella linea lì controlla l'Europa è inutile che vi spieghi quanto è purtroppo di attualità voi capite che tutto ciò ci manda un messaggio la democrazia in senso forte non funziona la democrazia quando ha funzionato è stata una fase di equilibrio i 30 gloriosi in cui un forte potere politico di stati che però non erano tanto forti da potersi permettere di fare la guerra ma erano abbastanza forti da potersi permettere di tenere sotto controllo il proprio capitalismo interno questa è stata la democrazia quando l'economia è esplosa ha rotto i confini ed è dilagata nel mondo la politica ha deciso di non essere più in grado di controllare quel capitalismo o ha riconosciuto di non essere più in grado quello che sta capitando adesso oggi è che alcuni centri di potere politico tentano di recuperare controllo sull'economia e di usarla politicamente perché perché in questo mondo non c'è solo l'economia politica dilagante esiste ancora la geopolitica perché non esiste solo la globalizzazione ma esiste anche la sovranità confinaria ecco pensiero critico è il pensiero che all'opposto del pensiero normativo ci dice che è inutile che ci diamo troppe regole perché tanto la democrazia la si capisce meglio e la si può porre in essere in modo moderato e contingente se non ci si monta troppo la testa cioè se non si pretende quello che invece quello che invece era il sogno della democrazia è ciò che ce la fa essere tanto cara cioè l'idea in fondo umanistica in fondo umanistica che esiste un metodo una via attraverso la quale nella politica l'uomo e ovviamente la donna gli esseri umani fioriscono cioè la politica non più come dimensione della contingenza della necessità della coazione ma la politica come dimensione della libertà e dell'azione beh ci abbiamo provato ci abbiamo pensato molto pensiero critico ci dice che l'obiettivo massimo non è raggiungibile naturalmente esiste una vasta gamma di obiettivi intermedi per i quali è molto probabile che valga la pena dibattersi io adesso mi fermo vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle domande grazie mille per questo intervento sono sicura che ci saranno già diversi pensieri e domande da fare e so che ne ho anch'io però do la prima possibilità a Nicolà Ghio ha alzato la mano e poi chi altro è benvenuto a mettersi in fila ci arriviamo a tutti grazie grazie professor Galli per questo intervento è ricchissimo io cioè ascoltando avevo insomma forse due domande o commenti la prima mi è venuta proprio negli ultimi minuti del suo intervento quando percorriva varie strade del pensiero critico quella la strada schmittiana no e poi quella fucoltiana biopolitica mi chiedevo se non ce n'è oppure non so forse non è forse è un pensiero democratico forse è un pensiero critico ancora non so ma se non ce n'è una terza che è quella diciamo di un nuovo ecologismo di una nuova lettura ecologica del pensiero politico piuttosto di una rilettura della tradizione del pensiero politico come una successione di di ecologie praticamente no penso a dei lavori recenti per esempio il libro di pierre charbonnier affluenza e libertà che di cui l'argomento praticamente consiste nel dire che la nostra concessione quella moderna no che lei ha ha illustrato della libertà è sempre stata predicata su un'idea dell'abbondanza cioè sulla proprietà alla fine e che forse e che forse oggi se vogliamo mantenere una certa libertà bisogna ripensarla slegandola no dell'abbondanza e ripensarla forse nella scassità ecco che poi tra l'altro per certi versi è un pensiero interessante per altri va a raggiungere un'idea che forse alla fine è anche di ascendenza schmittiana non lo so però sicuramente schmitti in alcuni saggini in 40-50 ha quest'idea che è la partita è il limite la frontiera è la partizione della terra no che permette di prendere delle decisioni morale sulla giustizia sulla distribuzione e che e quindi abbiamo bisogno di finitezza per pensare per fare delle scelte morale se immaginiamo che c'è una natura un ambiente infinito infinitamente che si può sfruttare infinitamente allora ci sbarazziamo dell'idea morale del bisogno di prendere decisioni che sono anche delle decisioni di uguaglianza o di disuguaglianza ecco ecco non so se mi interessava forse la sua reazione su questa su questo su questo argomento e l'altra domanda forse più generale è arrivato alla fine di questo percorso di questo panorama mi chiedevo ecco mi interessava il ruolo della dimensione internazionale in quello che descriveva perché anche lì c'è un nocciolo e un limite del razionalismo politico cioè si può essere razionale finché vogliamo costruire dei modelli dello Stato però poi c'è un limite oltre il quale la vita internazionale è sempre stata alla fine quel nocciolo insuperabile no di razionalismo cioè la guerra di questo passo e oggi mi sembra che ecco quando si pensa a socialdemocrazia e neoliberismo lei ha accenato a questa cosa che la socialdemocrazia per certi versi è morta nell'89 ma è morta nell'89 anche per ragioni internazionali perché è stata possibile non solo come comando cioè sì è stato un comando politico sull'economia è un compromesso tra lavoro e capitale ma lo è stato anche perché è nascito in un contesto in cui questo rapporto di forza era possibile anche per fattori esteri crollata l'Unione Sovietica crolla anche un certo potere innegoziato della classe operale ovunque quindi la socialdemocrazia che tra l'altro oggi sta tornando ma in chiave nostalgica addirittura a volte conservatrice ma come torna da un punto di vista puramente teorico che fa l'economia di questa analisi internazionale che fa spesso anche l'economia della trasformazione massiccia delle soggettività sociali in una classe operale che ormai non è neanche più non ha neanche più un voto operaio perché è stata esplosa in mille direzioni quindi se questa strada non è percorribile se dall'altra abbiamo un neoliberismo che si che forse è andato oltre quello che descrive a lei nel senso che sì e certamente è un dominio dell'economia un affrancarsi dell'economia rispetto al comando politico però come un progetto è anche un progetto fondamentalmente politico nel senso che l'ordine dell'economia competitiva capitalista neoliberale è stato un ordine giuridico dall'inizio è stato un ordine forte una costruzione di ordine nel quale si poteva produrre questo fenomeno però anche il neoliberismo oggi sembra in crisi di riproduzione nel senso che c'è sempre questa vecchia tendenza globalista internazionalista e dall'altra una tendenza di rinazionalizzazione del neoliberismo molto brutale quasi di autoritarismo neoliberale ormai che è una contraddizione interna a questo progetto e quindi questi sono un po' i due i due grandi di riferimenti teorici ma anche storici che abbiamo oggi e non è una situazione molto entusiasmante e quindi mi chiedevo lei appunto una volta ha fatto questo una volta ha fatto questa rassegna del pensiero critico se vedevo una possibilità appunto di sforare al di là di questa situazione che a me sembra molto bloccata appunto ecco mi fermo qui perché insomma su un fatto che il modello moderno è un modello fondato sulla scarsità però mi spiego sulla scarsità di ordine sulla scarsità di legame sociale poi è proprio perché fondato sulla scarsità vuole forse natamente produrre abbondanza e dà per scontato che sia possibile cioè Hobbes dice che il il contratto che genera l'Eliatana cioè lo Stato rappresentativo serve a far sì che noi possiamo godere dei frutti della nostra industria che vuol dire facciamo l'operazione di creare ordine politico e dopo finalmente potremo lavorare e produrre e essere ricchi e certo e la modernità vuole uscire dalla miseria vuole uscire e sostanzialmente ci riesce solo in parte solo molto tardi e solo in occidente poi con la globalizzazione un po' anche fuori occidente soprattutto in Cina o poi il livello internazionale io l'avevo messo dentro la dimensione geopolitica è ovvio è vero che la democrazia viaggia insieme allo Stato e lo Stato è finito nel senso di a confini e fuori dallo Stato ci sono degli altri Stati quando va bene quando va male c'è la res cioè detto in un altro modo la giuridificazione integrale della politica dentro lo Stato può forse essere pensata ma sicuramente la giuridificazione integrale del globo terrestre che può solo essere pensata e non a caso i razionalisti la pensano non a caso Kelsen la pensano non a caso Ferraioli la pensano non a caso Kant la pensano Rousseau no Kant sì ma attenzione Kant la pensa la giuridificazione integrale tanto come esito finale di una storia umana fino a praticamente a oggi scandita dalle guerre che hanno una loro logica e una loro teleologia cioè che solo grazie alle guerre la terra tutta è abitata perché chi perdeva la guerra andava ad abitare nei posti più scomodi questo dice nella pace perpetua chi vinceva stava in Italia chi perdeva andava in Lappogna e poi con grandissimi se e ma e forse ci vuole la costituzione repubblicana dentro tutti gli stati e ci vuole la federazione di stati è chiaro che in Kant gioca un fortissimo realismo però c'è certamente la coazione razionalistica a non accettare che vi sia qualche cosa che impedisce l'esercizio pieno della razionalità in tutto il globo il neoliberismo aveva un progetto politico certamente sì ma questo era un progetto politico che non passava attraverso lo Stato o meglio che vedeva lo Stato come subalterno lo Stato doveva servire a fare ordine che non è male però certamente il capitale non accetta ordini l'assoluto è il capitale quello che non accetta ordini è il capitale le esigenze della produzione le compatibilità e tutto quello che vogliamo vogliono dire queste espressioni che ci sono delle evidenze incontrovertibili e la politica che comunque è oggetto di un potentissimo attacco ideologico la politica è corruzione la politica sono i partiti la politica sono i sindacati la politica sono quelli sono quelli che sfruttano il lavoro eccetera eccetera comunque sia la politica va bene serve con lo Stato minimo o ultraminimo cioè con lo Stato della che fa polizia ecco certamente non fa Stato sociale ma questo non vuol dire che non abbia anzi il neoliberismo è essenzialmente politico anche perché prevede la continuità e l'accentuazione del comando politico del capitale sull'intera società la società diventa tutta una società di mercato dove vivono ovunque vivono le stesse regole non c'è differenza fra un'azienda e un'università fra un'azienda e un'ospedale devono funzionare con le medesime logiche e questo è un discorso politico certo lo Stato non è più il signore della vita associata la vita associata della vita associata si è insignorito il capitalismo come se ne viene fuori allora il neoliberismo è già in crisi perché noi l'abbiamo visto la globalizzazione è in crisi il neoliberismo è in crisi solo che la crisi del neoliberismo non è accompagnata da una proposta politica ed economica nuova l'Europa era nata per molti motivi uno dei quali era di opporre al modello neoliberista il modello ordo-liberista tedesco che è un modello più politico cioè quella che viene chiamata l'economia sociale di mercato altamente competitiva che è l'autodefinizione dell'Europa però l'Europa non è stata in grado di produrre una sintesi politica cioè non c'è una sovranità europea e non c'è una politica estera europea l'Europa se la fa imporre da chi? In questa fase storica dagli americani no lo stiamo vedendo anche adesso la guerra che è in corso adesso se l'Europa fosse stata un soggetto politico sovrano non sarebbe scoppiata perché l'Europa non è contenta di avere una guerra ai confini non vuole proprio sicuramente avrebbe trovato ma un'Europa sovrana avrebbe trovato modo di far sì che non capitasse quello che è capitato ma l'Europa non è sovrana cioè i tedeschi ci hanno provato fino all'ultimo a tenere aperto un canale ma gli americani che ne hanno tutto il diritto perché hanno vinto la guerra mondiale le ultime due quelle importanti gli americani hanno detto no voi adesso la smettete sostanzialmente di avere rapporti positivi con i russi ve lo diciamo noi anche perché voi da soli non vi potete difendere vi difendete solo perché ci siamo noi e noi non vogliamo noi abbiamo tutto l'interesse a che i russi si mettano in Afghanistan e ci restino possibilmente per sempre non c'è come dire non emetto giudizi perché la politica internazionale non funziona con i giudizi però funziona con l'analisi e l'analisi è questa se c'è qualcuno che sta traendo vantaggio da quello che sta capitando non è la Russia che non ce la farà non sono quei poveracci di Ucraini poveretti che sono oggetto di aggressione l'Europa si è infilata in una logica di contrapposizione frontale alla Russia attraverso sanzioni che forse faranno male alla Russia ma faranno un gran male anche a noi l'euro cala il dollaro cresce e gli americani se va bene ci venderanno a caro prezzo il gas che non ci vendono più e soprattutto gli americani hanno stabilito una bella linea di confine fra il blocco occidentale e la Russia e questa è banale geopolitica cioè gli americani hanno fatto prima ma soprattutto la seconda bella mondiale perché non vogliono essere quello che sono cioè un'isola detto in un altro modo vogliono controllare entrambe le sponde degli oceani su cui si affacciano una la controllano perché sono loro e l'altra sponda la vogliono controllare la sponda è l'Europa occidentale è la Nato quando si parla di Atlantico ed è il sistema di alleanze che gli Stati Uniti hanno portato in essere con paesi dell'Oriente in Asia è un sistema di alleanze che chiude questa è proprio geopolitica classica che chiude gli stati gli enormi stati continentali asiatici che vorrebbero sboccare sul mare sull'oceano e non ci riescono perché sono chiusi e questo continua e Putin ha voluto ha voluto fare un'operazione da una parte classicamente geopolitica cioè la Russia preme perché vuole vuole il controllo dell'Itmo Ponto Baltico un'operazione che un controllo che la Russia non potrà mai avere per egemonia economica perché ha un'economia più piccola dell'economia italiana figuriamoci che però può avere se messa da parte ogni ogni umanità ecco adopera gli ucraini come come bombe contro di noi perché poi quello che sta capitando è questo che un paio di milioni di ucraini come profughi buttati contro l'Unione Europea vediamo che si stanca prima dice Putin se mi stanco prima io per le vostre per le vostre sanzioni o se vi stancate prima voi perché sto adoperando questa gente come arma contro di loro che è come se ne viene fuori le pare che se lo sapessi sarei qui sarei a comandare il mondo non lo so come se ne viene fuori non è non sta scritto da nessuna parte che se ne venga fuori ecco il pensiero negativo ci dice questo chi ti ha detto che ogni problema ha una soluzione su questo punto e prendo la parola se non ci sono altre domande io ne avevo una anzi due la prima è più una riflessione o un invito a riflettere su questo momento negli anni 90 che lei ha descritto appunto come critico uno svolta nella democrazia con la fine della guerra fredda se lo guardiamo dal punto di vista internazionale si parla spesso di questo momento in cui si è creato il liberal world order questa visione degli anglo-americani in cui pensavano che si possa esportare la democrazia e il liberalismo in tutto il mondo e creare questo spazio globale senza alternative in cui ogni alternativa è praticamente esclusa quindi vorrei sapere se questo insomma quali sono le radici del falimento di questo progetto di cui si parla oggi parecchio chiedo in particolare perché per caso sono stata invitata a partecipare da I can bury in una giornata di riflessione in cui lui invita tutti a riflettere su perché questo progetto è fallito quindi le giro la domanda e se lei pensa che effettivamente è fallito è perché poi un ultimo punto sull'Ucraina che riprende quello che ha appena detto in un certo senso in un certo senso si può vedere se prendiamo il punto di vista geopolitico per capire questo conflitto si può vedere il completo fallimento della democrazia come diciamo sistema di liberazione nazionale perché alla fine gli ucraini qualsiasi cosa che facciano non conta molto se loro abbiano una democrazia oppure sono governati dai nazisti come dice Putin cambia poco nel grande schema dei fatti e quindi forse in un certo senso è inutile parlare di democrazia mi fermo qua brava diciamo così sotto il profilo delle relazioni internazionali è inutile esiste la tesi secondo la quale le democrazie non si fanno la guerra fra di loro ma è una tesi assolutamente empirica cioè non ha alcun fondamento teorico esiste invece il fatto che le democrazie fanno un bel mucchio di guerre tutte le volte che gli pare ma non perché siano democrazie perché le democrazie che fanno le guerre non è l'Italia poveretta che è una democrazia ma che le guerre dopo quella che ha perduto così luminosamente non ne ha più fatte le guerre le fanno gli stati grossi ricchi e potenti che siano democratici o che non lo siano la guerra non nasce dalla politica interna la democrazia non è inutile è una gran bella cosa a livello di politica interna a livello di politica internazionale che gli stati che uno stato sia democratico forse lo rende più restio a fare la guerra per un motivo che voi avete visto all'opera adesso in Russia in Russia comanda solo Putin non credo che si debba confrontare con altri e questo è più una debolezza del sistema come in Italia quando c'era il fascismo la guerra di fatto l'ha decisa Mussolini come singolo individuo uno può essere un grande politico un genio della politica non è il caso di Mussolini ma questa è una argomentazione che c'era in Machiavelli quando diceva le repubbliche sono migliori dei principati solo perché nelle repubbliche comandano più persone e comandando più persone le repubbliche hanno più capacità di reagire alla fortuna quella che lo chiamava la fortuna cioè alla contingenza mentre un essere umano singolo per quanto bravo intelligente è geniale ha un set di risposte limitato per forza ecco allora un singolo che abbia tutto il potere o che comunque alla fine sia lui solo a decidere è più facile che commette errori che porti un paese in una situazione disastrosa mentre un paese con il potere distribuito in diverse istituzioni con un'opinione pubblica è un paese che prima di compiere certi passi può pensarci non necessariamente ci pensa ma può pensarci io francamente non mi pongo neanche il problema che si può non ai cambiare cioè come avrebbe potuto come avrebbe potuto il mondo anglofono perché poi di questo si tratta con la identificazione della democrazia col mondo anglofono bene come avrebbe potuto dominare l'intero pianeta benché gli Stati Uniti avessero poi allora una potenza militare sconfinata ma la sanno usare male una potenza economica enorme ma insomma lo sanno quanti sono i cinesi ecco com'è possibile pensare che il mondo cinese si apre al capitalismo e poi si lascia governare dagli americani com'è possibile o meglio tu puoi pensare questo solo se sei prigioniero dell'idea che il capitalismo fa bene a tutti è un gioco a somma positivo il che non è il capitalismo non fa bene a tutti istituisce gerarchie geopolitiche che ci sono prima del capitalismo e geoeconomiche ci sono paesi a cui qualcuno ha detto tu fornirai solo materie prime altri a cui qualcuno ha detto tu fornerai mano d'opera dequalificata altri a cui qualcuno ha detto tu non ti occuperai mai più di computer ma soltanto di alta moda l'Italia qualcuno è paese a cui qualcuno ha detto dentro tu invece troverai le idee tu sei la potenza della innovazione ecco allora vi pare che esista un potere al mondo capace di gestire in modo stabile e ordinato le questioni geopolitiche e geoeconomiche cioè il capitalismo non è produttore di ordine se lo sogna se lo racconta nessuno da solo è produttore di ordine non è che il comunismo fosse produttore di ordine poveraccio non ci pensava neanche non è che il nazismo fosse produttore di ordine ovviamente è che non c'è la possibilità in questo mondo che è ben piccolo su scala cosmica però è abbastanza grande per non avere in sé una capacità di ordine unico ecco era inevitabile che il capitalismo istituisse potentissime forme di raccordo e rapporto fra le forme politiche preesistenti ed era inevitabile che a un certo punto le forme politiche si accorgessero che c'era qualche cosa che funzionava male i cinesi sono molti e sono pazienti hanno cominciato producendo cose da quattro soldi subalterni subalterni nello scacchiere economico mondiale e poi in vent'anni sono diventati un'economia importante come quella americana e con questo non sono diventati degli amiconi degli americani dei soci d'affari sono diventati dei concorrenti geopolitici e geoeconomici e per fortuna che sono governati da persone più sagge di Putin perché perché se a Taiwan succede qualcosa non faranno la figura che sta facendo Putin l'unità del mondo detto in un altro modo l'unità del mondo generata dal capitalismo è un'unità discontinua e parziale l'unità del mondo ecco lei studia un autore che pensava giuridicamente allo Stato mondiale questo è è assurdo sotto il profilo proprio non ci arriveremo mai un'alternativa era stata bene lascia stare lo Stato lo Stato che se vi sono delle persone che si divertono a fare i politici che lo facciano tanto l'unità del mondo la facciamo attraverso l'economia vedrai che quando c'è un'unica forma economica l'unica forma economica la politica che è obbligata a seguire non a precedere l'economia la politica che è obbligata a seguire sarà senz'altro una politica che asseconda questo ordinato movimento economico mondiale allora che il movimento economico mondiale sia ordinato andiamo a raccontare poi andiamo ai congolesi che hanno tante belle materie prime di cui però non riescono da cui non riescono a trarre alcun profitto chissà perché perché gliele prendono tutti gli altri cioè il capitalismo produce gerarchie solo che sono gerarchie non fondate su situazioni presuntamente oggettive non su autorità è la gerarchia di chi ha potere se lo tiene e associa associa gli altri al proprio potere in forma subalterna cosa che si può fare con molti ma non lo fai con la Cina perché subalterna non ci vuole restare non lo fai con la Russia che non ci vuole restare anche se è un'economia patetica e se è anche demograficamente un paese debole però non vuole non lo fai con l'India che sono un miliardo e mezzo sono scombinati molto più dei cinesi molto meno organizzati però non ce la fai a tenerli subalterno non ce la fai anche se sono tutti dentro tutti dentro un'unica forma economica in quella forma economica si formano contraddizioni economiche che vengono adoperate dalla politica che dalla geopolitica è mantenuta distinta il mondo non è geopoliticamente unico e poi esiste esiste la dimensione esistenziale della politica cioè c'è chi vuole esistere politicamente teme per la propria esistenza lo dico a lei pensi a Israele allora andare a parlare di Stato unico a Israele fa nascere la domanda e l'Iran questa è una dimensione esistenziale se vogliamo la politica è lo specchio del nostro del peccato originale se vogliamo noi abbiamo detto che la democrazia è lo specchio del nostro idealismo del nostro umanismo poi appunto ahimè il pensiero critico se vogliamo ma è l'esperienza più banale ci dimostra che la politica ha a che fare con delle delle opacità insolubili questo ci fa male perché lei pensi che Marx pensate che Marx era aveva il coraggio di dire che ogni epoca pensa soltanto i problemi che può risolvere noi siamo qui a pensare tutti dei problemi di cui non abbiamo in tasca la soluzione ma proprio non abbiamo neanche se se il problema è il problema ecologico se il problema fondamentale come poteva sembrare fino a qualche tempo fa il problema fondamentale che si impone oggettivamente è il problema ecologico da sette giorni non lo è più perché da sette giorni abbiamo deciso che brucieremo tutto il carbone che troviamo e del scaldamento globale non ci importa nulla la politica ha a che fare con la contingenza la contingenza è scabra non è liscia non ha l'aspetto liscio che ha una democrazia statale meno che mai ha l'aspetto liscio che il liberalismo il capitalismo anglofono vogliono volevano che avesse la terra come pianeta esiste la contingenza scabra e sarà meglio che qualcuno ne prenda ne prenda coscienza ecco io devo ancora capire se gli americani lo sanno o no detto nel romanesco se ci sono se ci fanno perché quello che hanno fatto adesso è una cosa come dire molto molto interna è una consapevolezza politica vecchio stile cioè metterci nella condizione di non avere più rapporti con la Russia una buona spinta ce l'ha data la Russia ma un'altra spinta ce l'ha data il fatto che noi a un certo punto abbiamo detto no basta non ti vogliamo più non vogliamo più parlare con te whatever it takes whatever it takes come sapete è la grande frase con cui Draghi a suo tempo si oppose alla speculazione contro l'EU tradotto in politica che cos'è è la decisione sovrana cioè è l'atto con il quale si dice basta con la ragione io e te non ci capiamo più interrompiamo i rapporti razionali d'ora in poi ci sono soltanto rapporti di forza questo ci si va a finire si va quando quando c'è ecco quando c'è poca saggezza poca prudenza e molta inumanità ecco si va a finire lì che non è una cosa bella a Schmitt piaceva a me non piace neanche un po' però non possiamo far finta che non ci sia questa cosa se a uno non piace il bacillo di Hock questo non fa sì che non ci sia la tubercolosi c'è e sarà meglio quando si pensa alla politica ad avere tutta una gamma di armi per comprendere non soltanto il sogno razionalistico moderno di cui il neoliberismo era l'ultima espressione di cui la globalizzazione era l'ultima espressione figuratevi voi se i cinesi si fanno inglobare da noi altri 4.000 anni di civiltà una consapevolezza di se stessi che noi non abbiamo diciamo così se diventano un pezzo della del grande impero americano ma per piacere per piacere non avverrà mai per motivi materiali e per motivi anche esistenziali questo vuol dire che ci sarà sicuramente una guerra nucleare fra Cina e USA no? se sono tutti prudenti no però ci sarà la pace perpetua no ma frizioni ci saranno ecco ripeto poi quando si trova qualcuno molto spregiudicato molto disperato le cose vanno molto male non bisogna portare nessuno alla disperazione è il principio del corner direct il topo messo in un angolo si difende fino alla morte non deve capitare mai questo da una parte dall'altra il topo non deve andare in giro a rodere troppo però non ci si può aspettare che il topo non roda ecco diciamo così il mondo oggi ci mette davanti in evidenza cioè che le cose non vanno come vorremmo che per noi moderni armati di scienza tecnica democrazia è una sconfitta cioè la nostra idea moderna era il mondo deve andare come vogliamo noi tutte le nostre ideologie ci dicevano questo per un modo o per l'altro con una causa o con un'altra la modernità era costruita sulla base dell'idea che al mondo capitano le cose che vogliono gli esseri umani invece noi qui adesso stiamo vedendo che più ci impegniamo più capitano cose che non vogliamo che capitino che non abbiamo previsto con effetti distorsivi cioè questo sarebbe un modo per ragionare oggi sulla globalizzazione cioè la smentita della globalizzazione è la smentita della del punto più profondo dell'anima moderna cioè del fatto che tutto è sotto il nostro controllo non attraverso la politica stato mondiale no attraverso il diritto diritto mondiale ma attraverso l'economia che è un linguaggio è un modo per parlarci no no è un modo per dominare era un modo per produrre era un modo per fare quel che diavolo ci pareva e un modo che ci è esploso nelle mani Nicolà magari vuoi intervenire una domanda breve veloce perché è già tardi ma lei insomma fa un quadro realista no della situazione cioè realista nel senso del realismo politico classico novecentesco ecco certamente cioè un'idea della politica dove insomma la cosa che capisco benissimo infatti condivido con la i sospetti rispetto diciamo alle idee di ordine globale di stato mondiale via di questo passo detto ciò storicamente sono i realisti della metà del secolo sono Hans Morgenthau John Hertz Kennan addirittura che partendo una visione che è un po' quella che descrive adesso a un certo punto sono loro che sono stati i primi a parlare di stato mondiale paradossalmente nella scia di un evento che è la bomba nucleare nella scia di Gunther Anders praticamente che alcuni avevano letto addirittura non come progetto realista ma come dovere etico perché era cambiato cioè completamente l'ambiente nel quale si faceva la politica e che di colpo i vecchi meccanismi di bilanciamento del potere di equilibri di potenza venivano cioè il nocciolo di razionalismo residuale diventava troppo pericoloso diventava una cosa che poteva risucchiare tutta l'umanità e si finiva arrostiti praticamente e quindi c'è questo legame abbastanza paradossale tra un realismo politico assoluto quello veramente della democrazia militante dell'idea che comunque l'ordine deve avere un limite per sopravvivere a delle idee di cioè le prime le prime ideologie protoglobaliste infatti parlavano di non esisteva la parola globalismo negli anni 50 parlavano di universalismo o di world state letteralmente era l'espressione usata stato mondiale è totalmente improbonibile come diciamo ovviamente non come progetto politico ma come linea etica come guida alla riflessione politica oggi è vero che fino a sette giorni fa uno poteva pensare che non più la bomba nucleare ma le questioni ecologiche che tra l'altro anche Kennan sulla fine della sua vita si è appassionato queste questioni ha preso le posizioni molto forti su questo ci ha scritto poteva diventare un equivalente della bomba nucleare per i realisti e uno sperone per appunto sviluppare dei modelli alternativi crede che questa cosa sia del tutto fallita e fallimentare dall'inizio ma no guardi dico solo questo che se tutti fossero realisti nel senso tecnico dei temi non ci sarebbero spesi se Putin fosse stato un vero realista avrebbe capito che questa non la poteva fare è che ogni tanto capitano delle non c'è solo la ragione perché realismo vuol dire ragione è ragione che prende che si prende che prende atto di limiti è che gli esseri umani non solo a volte adoperano la ragione in modo illimitato ma a volte non la sanno nemmeno adoperare per riconoscere i limiti a volte fanno le cose per motivi non del tutto razionali che per un capo di stato che comanda davvero come Putin non va bene se un realista come Kennan nel 1998 come lei sa scrisse che l'allargamento verso est della Nato era un tragico errore 1947 si si è vero un tragico errore allora se tutti fossero stati realisti non avremmo fatto l'allargamento della Nato insomma la bomba atomica paradossalmente l'ha generata una globalizzazione anche se era in mano sostanzialmente a due soggetti diversi erano tutti e due abbastanza saggi da capire da averne veramente paura e infatti non l'hanno adoperata non non voglio essere smentito ma non credo che moriremo per colpa delle bombe atomiche ma ci sono altre mille bombe mille altri tipi di bomba che possono farci del male ecco ma la bomba atomica ha fatto davvero paura e di fatto non è mai stata adoperata dopo le prime due certo adesso adesso per la prima volta da sempre c'è stato qualcuno politicamente responsabile che l'ha menzionata di nuovo Putin che vuol dire che si sente davvero come il topo incantonato siccome lui ne ha tante di bomba atomica e siccome siccome ha dimostrato di essere profondamente inumano sarebbe meglio che una parte delle energie che stiamo mettendo per fargli la guerra la mettessimo per tentare un approccio per tentare anche un approccio di carattere politico cioè mentre se gli si dimostra guarda non cediamo dall'ante gli si dice trattiamo che cosa vuoi ecco l'idea che si chiuda uno così in un angolo è pericolosa perché è perché evidentemente viaggia su parametri per cui appunto un paio di milioni di profughi sono nulla vi possiamo operare contro quei somari di europei certamente di carne al fuoco ne ha messa parecchia questa questa ultima vicenda è proprio delle discipline di cui ci occupiamo noi io sono convinto che se il mondo fosse fatto di realistici sarebbero meno guerre e infatti i russi sovietici che erano profondamente realisti che avrebbero dovuto essere più idealisti andare a fare rivoluzioni in giro per il mondo facevano solo quelle che potevano fare l'unica volta che hanno fatto un passo falso Cuba si sono tirati indietro quando hanno capito che dovevano tirarsi indietro con loro con loro non c'era pericolo che gli scappassero di mano tante cose insomma era un fattore d'ordine sgradevole soprattutto per chi lo subiva sgradevole ma era un fattore d'ordine quello che è capitato con l'89 lo stiamo ancora vivendo caro mio cioè non abbiamo trovato una risposta alla questione quale ordine ecco perché la risposta siamo da capo non c'è bisogno di ordine perché l'ordine si forma da solo lo forma il commercio lo forma il capitalismo lo forma il diritto internazionale è una risposta sbagliata non effettuata ecco a parte il fatto che il diritto internazionale è qualche cosa che è nato per garantire la sovranità degli stati e solo negli anni 90 è diventata la responsabilità di proteggere cioè ha come oggetto anche i cittadini ma è molto molto sforzato nasce per garantire la sovranità degli stati e la sovranità degli stati è a suo volto un problema comunque mi taccio perché vedo che c'è una mano alzata sì ottimo così soltanto prendiamo l'ultima domanda di Tommaso e poi concludiamo questa sessione prego grazie grazie sarò molto breve grazie per per l'interessante lezione io spero di non essere fuori tema ma ritornerai rapidamente sul sulla sulla questione interna e sulla democrazia come si è affermata storicamente e come e come ha operato durante i 30 gloriosi ho notato questo riferimento al ruolo dei partiti come strumento di governo ma anche ovviamente di rapporto fra società e stato diciamo ragionando da storico mi pare esista una letteratura molto ampia molto vasta di scienziati politici sociologi e così via che hanno cercato di spiegare la crisi dei partiti e hanno elaborato teorie più o meno convincenti del perché sia così difficile oggi avere partiti funzionanti la mia domanda è utilizzando il pensiero critico e altre forme di pensiero affini come paradigma interpretativo esiste una teoria politica come dire articolata forte secondo lei convincente che spieghi le difficoltà a funzionare e operare dei partiti oppure una spiegazione di tipo storico sociologico alla luce degli sviluppi degli ultimi trent'anni è forse più convincente più valida alla luce anche forse della sua esperienza personale o comunque dei suoi studi grazie allora i partiti sono diventati irrilevanti quando è diventata irrilevante la politica e quando è che la politica è diventata irrilevante quando è stato detto da molti ed è stato chiaro praticamente a tutti che non c'erano alternative perché i partiti si fondavano poi avevano delle ideologie poi potevano essere più o meno coerenti però il fatto che ci sono partiti voleva dire due cose primo la società è in sé divisa e questo non è un male è fisiologico la società è in sé divisa secondo è possibile pensare che l'assetto socio-economico politico di un paese possa essere significativamente modificato attraverso il metodo democratico cioè se uno vince le elezioni può cambiare qualche cosa di significativo allora quando prima c'è stata la crisi del modello di Bretton Woods del modello chiamiamolo social-democratico che questa crisi è stata sostanzialmente gli anni settanta da quando Nixon sblocca scioglie la parità aurea del dollaro di lì a pochi anni il modello di Bretton Woods crolla ma ci mette degli anni sotto sotto la spinta di una una serie di circostanze anche una è l'esplosione dei prezzi petroliferi dovute alla guerra del Kipur un'altra è l'enorme inflazione che hanno fatto gli Stati Uniti per la guerra in Vietnam finché c'era quel modello economico e monetario gli Stati Uniti potevano stampare dollari che venivano accettati ovunque nel mondo cioè sostanzialmente esportavano inflazione e i partiti non hanno saputo interpretare quegli anni drammatici non hanno saputo c'è stato il terrorismo che era il segnale che le forme dell'ordine interno erano ormai incrinate e i partiti non hanno saputo proporre nulla il paradigma economico neoliberista si è affermato dapprima nel mondo anglofono e poi da noi con un intento anti-inflazionistico perché l'obiettivo del neoliberismo è non come era l'obiettivo del modello di Bretton Woods cioè la piena occupazione ma l'obiettivo era battere l'inflazione ci sono le uscite battere l'inflazione però lì è stato chiaro a tutti che la strada era tracciata la strada era tracciata e non c'era modo di venire indietro il PC si rompe il naso sopra il punto unico di scala mobile e poi accetta accetta sostanzialmente tutto accetta lo SME accetta in previsione l'euro cioè l'idea che proprio anche le persone della mia età hanno vissuto è che si è chiuso un ventaglio forse non c'era mai stato ma insomma si è chiuso un ventaglio di possibilità allora a quel punto lei mi spiega perché uno deve essere socialdemocratico repubblicano liberale o che cosa a quel punto la politica diventa un conflitto fra coloro che hanno il potere oggi e coloro che lo vogliono domani e basta e se ci sono motivi di conflitto reale sono tutti sui cosiddetti valori o sulla materia etica sui diritti civili allora lì ci si può litigare se gli omosessuali si possono sposare o no però il modello economico il paradigma economico è quello e ce lo teniamo allora lei capisce che oltretutto un paradigma economico che sminuzza la società distrugge deliberatamente i corpi intermedi privatizza il lavoro vuole che il singolo sia da solo di fronte al potere economico che la trattativa sia fra il singolo e la multinazionale senza i sindacati in mezzo eccetera tutto ciò distrugge i partiti se poi i partiti cioè distrugge la loro ragione d'essere se poi i partiti si dimostrano pure corrotti e allora è facile è facile che allontanarli dalla dall'opinione pubblica è facile descriverli come entità degne di scomparire e allora ridiamo lo scettro al cittadino ridiamo la sovranità al consumatore togliamo la mediazione facciamo facciamo il rapporto diretto fra il cittadino e i vertici istituzionali prima che ci fosse internet si diceva accendete spegnete la luce mi viene fatta una domanda per radio per televisione voi rispondete accendendo spegnendo la luce così prendiamo le decisioni lei capisce che questo vuol dire non ci sono ideologie non c'è partecipazione politica la gente la sera sta a casa davanti alla televisione o va a ballare non c'è alcun motivo di perdere del tempo se non vuoi far politica nel senso di occupare il potere cosa per carità rispettabilissima però allora dillo che tu sei uno che vuoi vuoi fare una carriera politica in politica ci sono quella roba lì tanto le decisioni importanti il paradigma economico quello è poi dopo che abbiamo fatto l'Europa da lì arriva di tutto arriva ogni tipo di normazione arriva di lì a che cosa può mai servire un partito che tipo di investimento emotivo ma anche di interesse può avere un cittadino per andarsi a iscrivere a un partito a partecipare a una noiosa riunione di celli perché mai i partiti sono soltanto degli agglomerati di emozioni o frustrazioni o interessi e basta i liberal che detestano i populisti i populisti che detestano i liberal coloro che sono che hanno avuto la fortuna di trovare un posto medio dentro un nuovo ordine economico e coloro che da un nuovo ordine economico hanno avuto invece più danni i primi sono i partiti delle ZTL i secondi sono i partiti delle ZTL zone a traffico limitato di solito sono i centri storici di pregio dove vivono le persone che hanno più denaro e più istruzione e votano per i partiti di centro-sinistra le periferie degradate invece dove stanno le persone che hanno avuto meno fortune votano per i partiti il cosiddetto antisistema che poi non sono antisistema però offrono al cittadino meno fortunato delle risposte di carattere valoriale per cui puoi essere maleducato verso non ti imponiamo il politicamente corretto puoi dire le parolacce puoi chiamare gli immigrati con parole ingiudose ecco non cambierà nulla del paradigma economico politico però hai questo diritto mentre invece quelli delle ZTL ti tolgono anche quel diritto in compenso lasciano che gli omosessuali si sposino il giorno dopo le nozze possono essere licenziati senza alcuna garanzia perché il posto fisso è noioso come disse un presidente del consiglio italiano e capisce che a questo punto i partiti non invogliano più tanto chi ha i miei anni invece ha vissuto un'epoca in cui si facevano dibattiti sul fatto che il marxismo di leninismo fosse l'ideologia del partito comunista ma una cosa è scrivere marxismo di leninismo col trattino una cosa è scriverlo senza trattino col trattino vuol dire è l'ideologia sovietica senza trattino vuol dire è il comunismo alla granci e si facevano dei convegni e dei congressi di partito su questa roba qui perché c'era passione politica perché si pensava che la politica potesse avesse potere potesse cambiare il mondo erano moderni e credevamo che gli esseri umani potessero vivere in un mondo fatto da loro e non fatto da non si sa chi ecco per cui questa è la spiegazione teorica e a tempo stesso storica i partiti hanno senso non solo quando la società è divisa ma quando la società sa di essere divisa lo accetta e vuole in virtù delle proprie divisioni modificarsi modificare i propri assetti strutturali tutte cose che oggi nessuno più pensa non dico dice ma nessuno più pensa e dunque e infatti oggi i partiti quando sono entrato in Parlamento è stata fatta una cosa un solito giro di opinioni da qualche impresa di 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 polls ed era saltato fuori che la popolarità dei partiti fra gli italiani era pari a quella della mafia intorno al 3% ecco entrai in Parlamento con questo con questo auspicio che andavo a fare qualche cosa che i miei concittadini reputavano importante e degno e apprezzabile tanto quanto l'essere mafioso non so che si è cambiato ma ho paura di no beh allora temo che con questa affermazione osservazione e mi tocca concludere la nostra serata forse appunto ci lascia riflettere sul futuro della politica in Italia e ovunque e vorrei prima di tutto ringraziare molto il professor Galli di questo suo intervento magistrale come sempre e spero infatti di avere occasioni di continuare la discussione e vediamo presto spero spero presto l'esito di questa guerra che stiamo vivendo così per affermare e controllare se le nostre ipotesi realiste sono state smentite o meno nel frattempo spero che vi unite a me nel ringraziare Carlo Galli per questo intervento e vi auguro a tutti una buonissima serata grazie 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 mille grazie a tutti